Emilio Vichi, oggi è un po' una rivincita dei campionati italiani, faremo uguale? Vabbè, speriamo, visto che il percorso è un po' da una parte, c'è la strada molto stretta, quindi può falsare un po' la gara. Se ci si trova un po' indietro, prima di questi tre chilometri corti finale, poi è difficile passare davanti. Poi anche all'arrivo c'è qualche brutta curva in discesa, quindi vediamo, speriamo di far bene e non cadere.